ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio dei vostri images of lotus oggi parliamo di un mazzo molto particolare presente praticamente solo in pauper al momento comunque è presente solo in questo formato un mazzo che sia simile che possiamo chiamarlo tranquillamente mono black barn o mono black agro diciamo che può ricordare per i più nostalgici ma tra molte virgolette per realtà comunque il game plan è abbastanza differente il suicide black vecchissimo che ancora presento in pre modern in realtà è comunque abbastanza diverso perché con questo il black si basava su creature comunque con una card quality un pelo più alta nel senso che le statistiche erano alte rispetto al mana con il quale si le castava perché comunque una volta tappo umana 22 anche se ti faceva perdere punti vita il carnofago era una carta forte ora invece no però questo invece proprio basato sui danni diretti allora vediamo insieme come si compone vantaggi svantaggi rispetto a giocare questo al classico mono rosso per questo un lavoro che in media faceva sempre solo mono rosso allora questo mazzo gioca delle creature che sono molto evasive o che puniscono i punti vita dell'avversario in maniera consistente prima di tutte il changeling outcast famoso per per essere usato molto in legacy per sningiare allora è un changeling 11 costo uno che non può essere bloccato non può bloccare il fatto che non blocchi non ci interessa tanto noi siamo gli aggressori il fatto che invece una volta che entra finché non viene tolto faccia un danno turno è molto rilevante guldrath vampire molto forte ma forse tra virgolette la più scarsa del mazzo passatemi anche se ho detto prima che molto cioè può sembrare un contrasto però capitemi mi spiego meglio allora è una delle creature più forti perché quella che può aiutare più una delle più grosse del mazzo infatti fintanto che l'avversario ha dieci o meno punti vita le prende più di più uno a intimidate quindi può essere solo bloccata da creature artefatto quelle che hanno il colore in comune con essa però finché non viene attivata è molto debole perché tappo 111 che non fa niente però una volta appunto fatta arrabbiare o mandata in frenzy col sangue che è una meccanica comunque che avevano molti vampiri di questo set cioè guardare i punti vita dell'avversario a dieci in giù un altro per esempio è il blood ghast molto famoso utilizzato in tattissimi formati e quindi diventa poi un bel 3 2 che è difficile da bloccare e comunque ti mette poco ucciderti nightmare mark night market lookout è molto forte perché fa un drenaggio ogni volta che viene tappata quindi sull'attacco fa già in automatico un danno poi se viene bloccata ok succede quello che deve succedere però intanto un danno tol'ha già fatto invece il prickly bockhardt è un tappo 1 con un'abilità vecchissima che adesso è in disuso di magic fear che praticamente come intimidate solo che riguarda solo il nero quindi può essere solo bloccato da creature artefatto e nere e o nere poi il resto si compone invece di botti che voi direte come botti e si botti ma del nero bumpy the night che ha il flashback col rosso infatti si gioca qualche terra col rosso per cercare di fare il flashback per carità è una strategia un po disperata non è proprio diciamo il piano b del mazzo farà tappare 6 per rifarlo ma non ci escludiamo nessuna possibilità fruit of tizerus tizerus non so la pronuncia correttissima non importa tappo 1 un giocatore bersaglio perde 2 punti vita e invece qua il flashback tra virgolette è più facile perché si fa con escape allora esiliamo altre 3 carte e paghiamo 4 mana possiamo rifare questa carta dal cimitero qua è molto più facile per 4 mana è facile raggiungerli soprattutto non dobbiamo neanche cambiare il colore il verdetto di ghett è molto forte perché oltre a fare emozione fa anche perdere punti dall'avversario considerate che qua ogni punto vita perso dall'avversario è molto importante perché una volta manato nella soglia dei 10 triggeriamo questa carta qua sani in blada attenzione attenzione in questo mazzo ha una duplice funzione vantaggio carte come è sempre stato ma se la leggete bene sani in blada dice target player quindi potete anche targettare il vostro avversario fargli pescare due carte ma fargli due danni in media si fa quando l'altro è morto quindi che ha due punti vita esatti perché fargli pescare due carte comunque non è proprio il massimo però si può anche fare un po' in early game magari l'altro ha 7 o meno punti vita perché comunque gli facciamo tramite tanta pressione che quelle due carte non fa in tempo utilizzarle ovviamente bisogna considerare il matchup se è un matchup che l'altro può guadagnare punti vita perché ha tante carte main deck guadagnare punti vita non è il caso di farlo sul rip molto bella rimozione e in più fa perde tre punti vita distrugge una creatura non verde è un po' particolare quindi è spesso un side out contro gli altri aggro perché appunto si basano sul verde come monogreen stompy però è molto forte perché l'emozione nera che è in grado di maccarelle nere cosa che normalmente non avveniva e inoltre fa perdere tre punti vita se abbiamo giocato un'altra spell black quindi considerate che in realtà non la pagate solo due però anche solo fare tappo due ti ammazza una creatura è forte se fate anche il trick la triggerate fate anche perdere tre punti vita meglio che comunque facile basta avete tanto spell a uno e molto forte perché in questo mazzo fa una specie di syring blades cioè ti tolgo un pezzo ti faccio anche tre danni tre vite tre danni questa è l'elica del nero peccato che non ammazzi le creature tyran's choice comunque sempre un botto tra l'altro questo ne fa un bel po' di danni ne fa quattro su focchetti in fiume ci sta uno per ammazzare i mazzi elfi e così via questa invece è la tech del mazzo una delle migliori allora morsel thefta costo quattro un giocatore avversario per le tre punti vita noi guadiamo tre e se è stato pagato il prowl cost peschiamo noi vogliamo sempre fare questa carta per il prowl cost come si fa il prowl? allora noi possiamo giocare questa carta pagando prowl quindi scontata solo due mana la di mezza se un avversario è stato fatto danno in questo turno con un farabutto noi abbiamo farabutti nel mazzo e hai voglia abbiamo il changeling che è tutto il prickly bov guard che è un farabutto la look out che è un farabutto e la guldaz vampire che è un farabutto vedete qualsiasi nostra creatura che fa danno è un farabutto quindi tutto quanto triggera il morsel theft molto molto forte se lo fate per prowl è davvero ottimo c'è fare un elica sui punti di vita dell'avversario e in più pescare una carta davvero senza prezzo questa è una delle mie carte preferite è una delle prime carte che ho giocato competitive di magic andava molto in combo con bitter blossom perché metteva delle pedine farabutto spiritello e quindi facevi il trick in quel modo adoro questa carta fortissima piranha marsh è una terra che comunque fa danno quindi cosa vuoi di più dalla vita è incounterabile e la side per riuscire a compensare i veri matchup di carte interessanti non c'è niente di cui sulla quale voglio soffermarmi allora questo mazzo allora vediamo un po' i suoi punti di forza allora rispetto al mono rosso barn qual è il vantaggio allora il vantaggio è principalmente il fatto che non sei un mazzo che sta sotto a delle side date estremamente efficienti come il mono rosso in che senso il mono rosso patisce hydroblast hydroblast costo un blu ti o distruggi un permanente rosso così pum o red o blue elemental blast insomma quelle due o ti counter una spell così costo un mana ciao questo invece è un mazzo tutto nero quindi quelle carte le classiche carte che odiano il colore che sono una per il blu una per il rosso su questo mazzo non funzionano e questo è già un grosso vantaggio poi l'altro vantaggio è che fa spesso perdere punti vita che quindi non può essere prevenuto dalle varie carte che dicono preveni il danno perché non stai facendo danno stai facendo perdere punti vita l'altra cosa interessante è il fatto che molte di queste carte si ciclano abbiamo per esempio morsel theft che si cicla e abbiamo anche sending blood che appunto ti permette di fare vantaggio carte cosa che invece il rosso non ha altra cosa importante che abbiamo rispetto al rosso giocare a rimozioni che fanno danni ok ne fanno di meno rispetto a seering blades ma abbiamo sia il verdetto di get che è in grado di distruggere creature ben più grosse della costituzione 3 e anche cosa vediamo l'ho perso eccolo qui il soul rip che comunque anche questo di nuovo fa distrugge praticamente queste cose che non sia verde quindi per esempio contro i mazzi come affinity che ci buttano giù i loro 4 4 giganti se abbiamo seering blades ce la guardiamo e ridiamo perché siamo morti invece qua no perché abbiamo queste belle carte in grado di togliere dalle scatole dal punto di vista investimento costo è davvero molto molto basso cioè guardate sono tutte carte che non hanno mercato cioè fino all'altro ieri non le comprava nessuno quindi se volete farvi questo mazzo ha molto senso perché comunque costa pochissimo è divertente è facile da giocare qualche risultato lo fate per carità è un mazzo non tier 1 ma insomma se è giocato comunque abbastanza in maniera corretta è il classico mazzo barn che non guarda in faccia nessuno quindi può portare a casa le partite e strapparle così dal nulla e punire spesso i keep fatti i keep ballerini con un po' titubanti dei vostri avversari quello ci può stare quindi tutto sommato si lo consigliamo match up allora i vari match up nel pauper andiamo a prendere un attimo di qua allora contro i vari mazzi tempo gli aggro come questo qua comunque i mazzi aggressivi sono sempre messi abbastanza bene perché siete molto propositivi l'altro non può starvi dietro tutti i turni anche se la speltata sprite è fortissima contro di voi perché countera tutto praticamente da sola però comunque lui può fare una speltata sprite a turno invece magari fate due o tre spelle a turno quindi i vari mazzi tempo non sono un match up affatto male gli altri mazzi aggressivi con il rosso ce la giochiamo in una gara di velocità c'è a dire che noi gestiamo bene le sue creature lui non gestisce bene le nostre quindi c'è quel vantaggio però i botti sono molto più efficienti come danno quindi attenzione c'è quella cosa lì i mazzi midrange li riusciamo a fare abbastanza male soprattutto quelli cascade perché non hanno grandi interazioni con noi quindi noi possiamo prendere il tempo a fare botto 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 e li ammazziamo così quindi devono per forza pescare del life gain che non tutti giocano non tutti giocano ma in deck per esempio questa lista giocava un pulso murasa che è poco non è una soluzione qui dipende spesso da quanto life gain giochi pre board e post board gli altri mazzi invece come boros monarca che hanno magari più life gain più controllo del board e sono un pochino più aggressivi magari possono essere più difficili da gestire perché comunque hanno un nemico molto forte chiamato seeker of the way in 4x c'è a dire che noi abbiamo comunque le rimozioni quindi riusciamo a gestire anche magari seeker of the way ma attenzione perché insomma di nuovo è sempre un midrage come dicevo prima match up dipende da quanto life gain hanno mono black control è un match up probabilmente ostico perché noi non abbiamo una soluzione al mercante che fatto anche da 2 sposta tanto che comunque è impossibile che sia solo da 2 perché comunque anche se giochiamo un po' di rimozioni non abbiamo così tante a tenere il board pulito appena fanno un mercante siamo abbastanza messi male quindi questo direi è un match up negativo poi abbiamo gli affiniti che sono match up comunque abbastanza equilibrati dipende un po' come partono perché comunque se partono sprintosi con i 4x4 o abbiamo le varie rimozioni per gestirlo se hanno messi indietro però c'è da dire che comunque loro non è che hanno chissà che interazione o life gain ma in deck anzi non ce l'hanno proprio quindi riusciamo magari a gestircelo è un mazzo particolare comunque nuovo quindi deve ancora diciamo assestarsi nel meta per poter essere definito appieno allora spero che questa guida vi sia stata utile per capire se volete giocare quel mazzo magari provarlo con l'investimento è davvero basso cioè magari si parla davvero di spendere 10 euro per davvero per montarlo fateci sapere se qualcuno di voi lo prova e spero che appunto il video vi sia piaciuto ci vediamo come al solito ogni giorno al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare mi piace commentare iscrivervi e attivare la campanella così non vi perdete niente tante novità come al solito sulle quali vi teniamo aggiornati sui nostri canali social tutti un unico link grazie al linktree e niente alla prossima ciao ciao